Questa maglia di Marchisio, i soldi che proveranno da quest'asta a chi verrà giudicata questa maglia, questi soldi verranno destinati per il progetto di ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco. E' un aiuto importante, i ragazzi ne hanno bisogno, ne ha bisogno il distretto dei sette comuni di cui Alpignano è capofila. E' un impegno forte da parte della città, dei cittadini e dell'amministrazione di tutti. E quindi mi hanno dato l'opportunità divina di spendere cinque minuti per giocarci questa maglia. E allora tocca a voi. Forza con le offerte. Allora abbiamo un'offerta da 300 euro qua. Forza, chi offre di più? Qui abbiamo 400. Vediamo un po' se c'è qualcuno che offre di più. Forza, vediamo chi offre 500. 500 di qua. Allora, vediamo un po'. C'è stato un tentativo qua per sfiarci ma si è nascosto. 902, 903. Ha giudicato 900 euro. Venga su che ha vinto la maglia. No, 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 va bene. I miei complimenti, ma più che tutto i complimenti da parte del corpo dei vigili del fuoco. Vi ricordo, avremo altre iniziative a supporto dei ragazzi. I ragazzi si impegnano tutti i giorni, tutte le notti, i sabati e le domeniche.